ora tiriamo 70 metri ma saranno 70 metri mistero mistero vediamo sinusoide sinusoide contro win e win vediamo che succede però questa volta a 70 metri ok dopo i 50 metri di mercoledì oggi proviamo a tirare 70 metri anche per vedere un po come fa la parabola e come vanno questi sinusoide sono andati sono andati bene lo dico già subito sono andati molto bene meglio dei win e win mx tgw perché a parità allora la rosata siamo lì più o meno uguale ma a parità di di potenza a parità di potenza io l'ho trovati trovati abbastanza morbidi in ancoraggio un muro deciso e mi sono e mi sono trovato bene la al cronotachigrafo la mia freccia che sono sempre le stesse sono le vat v6 900 tagliate a 27 pollici e mezzo con 70 grani in punta e alette da naturali da tre pollici fanno una bella parabola sentiamo il tiro escono a 200 piedi al secondo che sono circa 220 chilometri orari e quindi 60 metri al secondo poco più di un secondo per arrivare a 70 metri ecco l'abbiamo sentito sono 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 soddisfatto anzi addirittura io direi sono anche sorpreso delle prestazioni di questi flettenti diciamo che questo è l'ultimo modello ed è veramente veramente performante veramente performante e anche fluido molto 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 fluido sono veramente veramente contento adesso vedremo andiamo a vedere i risultati diciamo che come non ho tirato 100 mila serie per filmata la migliore diciamo che ho fatto un po il mirino ma ho mirato col piatto dalla finestra è un classico per i tiri a lunga distanza con la proiezione dell'asta della freccia sul sul piatto della finestra questo metodo me l'ha insegnato vincenzo scaramuzza vent'anni fa quindi lo ringrazio ancora ora per avermi dato questa opportunità e che io giro e giro tutti gli altri tirare 70 metri anche un buon allenamento è un buon allenamento perché andiamo a vedere dove sono andate ecco sentiamo sentiamo cosa si dice in diretta berti andiamo a vedere questa rosata non conto più i passi che mi hanno detto che conto sbagliati quindi pazienza senza trucco e senza inganno ne vedo una sbagliata però ne vedo anche tante buone direi direi che a parte questa ci sta dai un errore ci sta però una rosata così a 70 metri sinuso sinusoid sinusoid batte win e win 7 a 0 un vaffa subito a chi dice che non sono 70 metri direi che ci siamo